Monsignor Antonio Stagliano, Vescovo di Noto, oggi a Firenze, ma parliamo soprattutto della sua diocesi. Ecco, se dovesse fare una breve presentazione oggi, la sua diocesi in Sicilia, che cosa rappresenta nella realtà di quella regione? Anzitutto potrei dire con enfasi, e voi mi comprenderete, la diocesi più bella del mondo, noto, a parte gli scherzi, è una diocesi nella quale, come qui a Firenze, il tema della bellezza può diventare una via, una via per l'evangelizzazione. Famoso è il barocco netino, che trova proprio nella cattedrale della nostra diocesi la sua espressione più sublime. È una diocesi che comprende territori del Siracusano, quindi due province, è una diocesi molto compattata, perché la popolazione di 220.000 abitanti però è concentrata in appena nove rossi comuni. Questo fa anche la bellezza della diocesi, perché la gente può essere incontrata con rapidità, può essere incontrata anche più spesso, perché non è dispersa nella vastità del territorio. E infatti noi stiamo cercando di valorizzare questa bellezza della diocesi di Noto, cercando di costruire possibilmente delle sinergie sul piano pastorale tra le parrocchie, sinergie anche tra i presbiteri, attendendo all'impegno di evangelizzazione, che è proprio di una chiesa locale. Una chiesa locale esiste per evangelizzare, per portare il Vangelo, non soltanto e non semplicemente come dottrina e quindi come predicazione, ma soprattutto come testimonianza, testimonianza della carità. E allora stiamo molto lavorando per sviluppare anche un passaggio decisivo nella missionarietà della nostra chiesa. Il passaggio è questo, da sentinelle a esploratori. Le sentinelle, come si capisce, aspettano, guardano e vedono arrivare la gente. Non pensiamo a tanti poveri che vengono nei nostri centri di ascolto per essere aiutati. Ecco, noi vorremmo che questo passaggio avvenisse, da sentinelle ad esploratori, vorremmo e stiamo organizzando gruppi consistenti di fedeli laici all'interno delle comunità cristiane per andare per le strade della diocesi di Noto ed esplorare i bisogni reali. Come il Papa ci chiede, cioè sviluppare un processo che dalle chiese come recinto si sviluppi dentro i pascoli per raggiungere le periferie esistenziali di oggi, che non sono semplicemente quelle legate al mangiare, al bere, al vestire, come ovviamente si continua a fare, ma sono periferie esistenziali, come sottolinea il Papa, legate anche alla spiritualità, alla morale, quindi al disagio all'interno delle famiglie, famiglie ormai sempre più sconquassate, distrutte, infrante, con grandi problemi dei soggetti all'interno del nucleo familiare. Ecco, di questo noi ci dobbiamo interessare, per portare la vicinanza di Gesù alla vita delle persone e per poter possibilmente ricostruire con gli affetti tra le persone e darci una mano più agli altri in uno spirito di comunione, di armonia, vorremmo dire, usando la parola magica, di amore. Il suo impegno invece all'interno della CEI? Beh, per la CEI io sono uno dei membri della Commissione Cultura e Comunicazioni Sociali. Da questo versante sono impegnato anche all'interno della Regione Ecclesiastica di Sicilia come delegato dei Vescovi Siciliani per la Cultura e le Comunicazioni Sociali. L'impegno culturale è un impegno decisivo oggi, perché come già Giovanni Paolo II e prima ancora lo stesso Paolo VI nelle Evangelie Inunzianti sostenevano, una fede che non diventa cultura, cioè che non diventa etos, comportamento, costume, stile di vita, e una fede non interamente pensata, non pienamente accolta. Per cui in questo settore molto difficile e delicato c'è un grande lavorio, perché noi abbiamo bisogno certamente del pane per mangiare, abbiamo bisogno del vestito per vestire, poi abbiamo bisogno di tante cose per il nostro corpo fisico e a queste anche, come dicevo prima, sul piano dell'Evangelizzazione noi attendiamo. Però oggi, per dirla con un grande filosofo e teologo dell'Ottocento, molto caro a me, ma alla chiesa cattolica, che è beato il beato Antonio Rosmini, oggi c'è bisogno della carità intellettuale, perché le coscienze, soprattutto dei giovani, sono disorientati, ma non soltanto dei giovani, anche degli adulti. Pensiamo, per esempio, ai fenomeni terribili della ludopatia, sembra una questione soltanto psicodinamica, ma in realtà è un problema anche culturale, cioè un problema di disorientamento intellettuale che porta a un disorientamento della coscienza. Pensiamo a questi altri grandi campi su cui il lavorio intellettuale delle chiese dovrebbe particolarmente insistere, che sono i campi dischiusi dalla bioetica, la vita che nasce, la vita che muore, la vita che si sviluppa, come si nasce e come si muore e come si soffre anche durante l'iter del nostro crescere. Ecco, queste sono domande importanti in un mondo come oggi, dove la tecnologia è invasiva e produce tante possibilità, tante possibilità di qualità della vita, però produce anche condizioni e casi in cui il soggetto umano potrebbe diventare da soggetto oggetto e da soggetto anche a strumento. Si potrebbe ingenerare, ecco qui il lavorio intellettuale eticamente orientato, si potrebbe ingenerare l'atteggiamento dell'uomo che manipola il corpo umano o l'essere umano ritenuto semplicemente come un ammasso di molecole o un elemento soltanto biologico. Ecco, qui c'è molto da lavorare. Per non parlare poi anche di questo grande discernimento che comporta un lavorio intellettuale, discernimento che il Santo Padre vuole per tutta la Chiesa Cattolica, che verrà sicuramente autorevolmente realizzato nei famosi due sinodi sulla famiglia. Tutta questa problematica del gender, quindi questa problematica del saltare il genere maschio-femmina per inoltrarsi su strade che allo stato attuale risultano difficili da interiorizzare, da mentalizzare per noi cattolici. Tutte le problematiche legate anche alle minoranze, pensiamo anche alle questioni degli immigrati. Ecco, non sono questioni queste da affrontare semplicemente con un impegno di carità concreta e potremmo dire anche spicciola e immediata. Sono grandi discorsi anche di carattere culturale che impegnano la fede in un pensiero lungimirante perché la nostra attività anche di carità e di pastorale sia sapiente, non navighi a vista, ma percorra determinate strade, abbia un orizzonte, abbia un respiro.